Giulio, l'anziano capo di questo branco, ha dei problemi seri alle orecchie, sbatte le orecchie, pensiamo che possa avere l'otite, ora naturalmente in questo momento non lo farà, ma abbiamo visto sbattere ripetutamente le orecchie e ci fa pensare a un principio di otite. Mucchino, bianco e nero, il bellissimo flipper, Giulio, proprio in questo momento che ti abbiamo chiesto di sbattere un po' le orecchie e niente, il meraviglioso vasco che adesso se ne è andato ovviamente nel momento in cui lo volevamo riprendere. Grazie.